Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi oggi vi porto qui a trovare questa faccia da guerra di Loretta Dirigetevi qui al posto dell'albero sacro, molto semplice, vi ho fatto anche una guida come arrivarci Una guida di 4-5 minuti, molto semplice, quindi guardatela e arriverete subito qui Subito, subito Ora, seguitemi in questo lunghissimo viaggio, ma ho velocizzato il video tanto per farvi capire dove andare esattamente Quindi proseguire sempre da questa parte su questi rami dell'albero, se volete cazzeggiare anche con questi potete farlo Dirigetevi da questa parte, mi raccomando fate attenzione a quello che veramente se avete poca vita quello vi annienta in un attimo Andate qua sotto, si fate una bella scivolata Se volete proseguire più avanti qua fatelo perché dovete farlo perché a voi non c'è l'ascensore Quindi andate da questa parte, attenzione a questo, prendete la scala e proseguite sempre più avanti e poi scendete giù Adesso vi faccio vedere Ok, voi andate sempre avanti, io invece devo prendere l'ascensore per farvi capire dove andare esattamente Allora, voi dovete dirigervi lì, nelle capanne, proprio lì dove ci sono anche gli stregoni rompicazzi Che veramente non muoiono E lì c'è il boss da uccidere Quindi adesso tiro la leva perché a me è già sbloccata A voi invece sarà bloccata E scendiamo giù E proprio qui Ci sarà Loretta da uccidere Sul suo cavallo Non è come quella da Ranni là che è un fantasma No, questo è proprio in carne e ossa Quindi ragazzi, grazie a tutti per questa visione Se il video vi è stato utilissimo lasciate like Iscrivetevi al canale attivando anche la campanellina Quindi ho già detto tutto dove trovare questa bellissima falce da guerra di Loretta Quindi grazie a tutti per questa visione Ragazzi e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial Ciao Ciao Grazie a tutti.